Ripetuti colpi di arma da fuoco nelle campagne a ridosso di Arezzo, i residenti si allarmano, la polizia interviene e scopre che si tratta di tre ragazzi, di cui uno minorenne, che stavano provando un'arma modificata. È accaduto giovedì ad indicatore, frazione di Arezzo. Dopo l'allarme lanciato dai residenti, le pattuglie della squadra mobile sono intervenute, riuscendo a bloccare un'auto rossa che era stata segnalata come sospetta. La perquisizione dell'auto ha permesso agli agenti di rinvenire, nascosta sotto il tappetino del sedile posteriore, una pistola apparentemente a salve, fedele riproduzione del modello Glock. Un controllo più accurato ha consentito però di accertare che in realtà la pistola era stata modificata sostituendo la canna, rendendola quindi in grado di sparare come un'arma comune da sparo. È verosimile quindi che i tre ragazzi si erano recati presso il boschetto alle porte di indicatore per provare l'arma. I controlli degli agenti hanno permesso inoltre di rinvenire nella disponibilità di un altro giovane un involucro di 30 grammi di Ashish, per il quale il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini dispaccio. Il minore è stato denunciato per porto di arma clandestina e affidato ai propri genitori.